Questa è la sfida finale di Super Gem Fighter Minimix fra C&Co e Zangief, vediamo chi vincerà. Voi dovete aiutare C&Co a sconfiggere Zangief una volta per tutte. Io conto su di voi. Vi devo salutare. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e mettete un mi piace. Ciao a tutti.